io mi domando come siamo potuti cadere così in basso come la politica ci abbia rovinato in questo modo che hanno fatto del nostro paese la classe politica e dirigenziale soprattutto io mi domando che sarà dell'italia quale sarà il suo ed il nostro futuro sempre ammesso che futuro ormai ci sia non voglio suonare pessimista ma in vero voler essere ottimista in questi frangenti mi parrebbe cosa sa ipocrita i partiti ed i movimenti politici hanno tutti fallito e disilluso la gente ed ormai non ha più senso parlare di destra o di sinistra qui si tratta di salvare il proprio paese o da fondarlo annegando nell'intento dobbiamo cambiare tutto non sarà facile ma è l'unica cosa che ci resta da fare e nessuno ha mai detto che sarebbe stata una impresa facile da portare a termine questa la mia breve riflessione del giorno alla prossima dal vostro santa in ciana